Da ratti auto, chilometro zero aziendali usate ma anche veicoli commerciali o multispazio come Peugeot Rifter Davvero cattivo in questa versione multispazio con i cerchi in lega e le scocche laterali dotata chiaramente di barre al tetto L'interno passeggeri è dotato di ben sette posti con gli attacchi ISOFIX presenti in tutti e tre i sedili del passeggero centrali Anche la tecnologia a bordo davvero ottima, troviamo uno schermo touch dove possiamo gestire il navigatore, l'audio per la musica Qui tutte le impostazioni di guida e le regolazioni del veicolo, chiaramente c'è il mirror link di Apple CarPlay e Android Auto Il bluetooth per connettere il telefono e gestire le chiamate, il clima è gestibile dalle due ghiere poste sotto lo schermo touch Si tratta davvero di un ottimo multispazio, pieno di divani portaggetti con tutta la tecnologia che vi serve, lettore dei segnali stradali, line assist Potete condividere la rete con tutta la famiglia se viaggiate con la famiglia o con il vostro team È possibile anche rimuovere i due posti in fondo per aumentare la soglia di carico del bagagliaio Per avere più info e dettagli contattate i nostri sales manager su whatsapp, via mail Organizzate una video call se volete vederla come se foste qui dal vivo, ma seduti comodamente sul vostro divano Ma tranquilli, non siate timidi Potete effettuare la call senza l'utilizzo della camera, solo con il microfono Per poterla vedere e interagire, indire in tempo reale Andate subito su rattiavoto.com per scoprire di più su Peugeot Rifter, su tutti i nostri veicoli commerciali E noi ci vediamo alla prossima, ciao!